Ingegner Giorgio Sandrone, coordinatore del tavolo di lavoro lavori pubblici della rete e le professioni tecniche del Piemonte. Grazie a tutti, è certamente emozionante essere qui, ma anche di grande rilievo per quello che noi sentiamo, per la nostra attività, per il nostro essere professionisti, ma anche cultori della materia, per direi essere vicini all'interesse del bene del nostro territorio. Ora farò un intervento a braccio, visto che mi sono speso come coordinatore con tutti i presenti e con tutti i componenti delle commissioni a stendere il documento che è stato predisposto e quindi direi che non vorrei ripetere le cose che ho scritto nel documento, ma abbiamo scritto a tante mani nel documento, ma ci terrei a dare una declinazione ancora diversa della rete. È vero, siamo una serie di professioni, o meglio, di professioni, ma abbiamo tante funzioni. Siamo amministratori pubblici, o siamo stati, siamo dipendenti di enti pubblici, siamo imprenditori, siamo anche professionisti, ma siamo formatori, siamo professori universitari. Allora, tutte queste funzioni ci consentono di essere intanto portatori di grandi competenze, a nostro avviso, nel nostro settore, e di competenze trasversali. Con queste competenze trasversali abbiamo letto il documento, che è un documento, per notatemi, ma complicatissimo, perché è anche molto diverso da quello che oggi è vigente. Allora, ci sono tantissimi spunti interessanti, ma quando poi entriamo nel merito specifico dell'applicazione, le parole semplificazione, le parole che condividiamo tutti come le finità principali che sono state enunciate dagli onorevoli senatori, che hanno commentato la bontà del documento o gli obiettivi finali del documento, vengono a sfumarsi e non riusciamo bene a comprendere sempre come siano possibili da raggiungere. Faccio soltanto più due ragionamenti perché sono convinto che i tempi scorrono veloci. Il primo, abbiamo sentito parlare della centralità del progetto per discutere della problematica, a nostro avviso, dell'eliminazione di una o dei vari livelli. Io lo vorrei vedere dalla parte della committenza. Cioè il progetto è importante per il committente perché il committente deve ottenere dal progetto esattamente quello che vuole, esattamente quello che gli serve. Ma se non facciamo un progetto governato dal committente, come farà quel committente a tenere un oggetto che gli è veramente utile? Pensiamo che riesca a centrare l'obiettivo in bando di gara un'impresa su un documento di fattibilità tecnico-economica che necessariamente sarà scarno e eliminerà nella fase progettuale il dialogo indispensabile tra committente e progettista. Io non credo, la nostra esperienza dice che questo difficilmente porterà a degli obiettivi di bontà progettuale. Non tanto la questione, cioè è importantissima, siamo tutti sensibili alla qualità architettonica che è stata citata prima e che io pienamente condivido, ma guardiamola anche dalla committenza, dall'utilizzo dell'energia e delle risorse pubbliche. Secondo me questo è un problema fondamentale. Ne avrei tante cose da dire, ma ne aggiungo un'altra, che sostanzialmente è quella legata alla complessità del documento. Quando il nostro coordinatore dice giustamente prendiamoci un tempo transitorio, ragioniamo, ma ci rendiamo conto che il primo aprile, oltre a sembrare un po' uno scherzo, e dopo domani, allora tutti noi che siamo tecnici sappiamo che, ormai l'Europa ci dice, c'è una formazione permanente. Allora, 560 pagine, complicatissime di procedure completamente diverse da quelle attuali, molte importanti, ma come faremo ad applicarle senza una doverosa formazione di chi opera nel settore? Persone private, imprese, pubblico. Io sono preoccupato di questo. Non dimentichiamo che questo documento servirà più di 12.000 enti pubblici per fare progettazione, gestione di o acquisizione di servizi e acquisizione di, diciamo così, prodotti e forniture. Non vorrei che dal giorno dopo ci mettessimo otto mesi di interpellanzi e di interpretazioni per comprendere come operare. Qui direi che posso chiudere, ma uno slogan più progetto, meno cantiere, meno costi. Grazie. Grazie Ingegner Sandrone, anche per la sintesi da buon ingegnere. Non manca mai. Non manca mai. Con l'ingegnere Sandrone, a margine della conferenza e del dibattito, il tema del nuovo codice appalti, è emerso chiaramente l'esigenza di uno strumento più funzionale per gli addetti ai lavori e anche per aggiungere gli obiettivi. E, diciamo, la parte politica presente al dibattito sembra abbastanza disponibile ad ascoltare i suggerimenti che arrivano appunto da chi poi i lavori deve portare a termine. Una sua impressione a caldo di quello che si è detto. Intanto sicuramente la disponibilità della parte politica è importante perché credo che il dialogo sia l'elemento fondamentale per la definizione di qualunque strumento legislativo. Nel caso specifico, il documento molto complesso ha spunti decisamente interessanti. La nostra preoccupazione, oltre ai punti specifici che abbiamo già enunciato e che poi magari accenno leggermente, è legata alla realizzabilità, all'attuabilità in così breve tempo di uno strumento che porta a delle modificazioni significative delle abitudini, dei professionisti, delle stazioni appaltanti di chi partecipa alle gare o ai progetti. Sotto questo profilo alcuni aspetti paiono complessi da attuare in così breve tempo. Penso agli obblighi di informatizzazione previsti entro il 2025. Io credo che è un obiettivo assolutamente interessante ma vorrei comprendere se è effettivamente realizzabile e con quali strumenti paralleli sia realizzabile perché non escludo che molti elementi sono innovativi e sicuramente avanzati. Probabilmente è necessario un aspetto più corale di prescrizioni, di disposizioni, di scelte, di programmazione legislativa e di investimenti per poter attuare davvero questa rivoluzione epocale che si coglie nel documento. Speriamo tutti che questo sia davvero il momento di svolta per una maggiore operatività dell'Italia nel campo dei lavori, delle opere affinché le opere iniziate non rimangano ferme a se stesso. Certo, come ho potuto dire in precedenza, durante la conferenza, io credo che la centralità del progetto sia un elemento effenziale proprio per dare riscontro alle necessità dei committenti. e quindi si tratta di capire come coniugare questa necessità, secondo noi, improcrastinabile rispetto a quello che è la semplificazione che sembra quasi un po' l'unica che effettivamente si coglie di ridurre le fasi progettuali. Ecco, sotto questo profilo credo che ci sia del lavoro da svolgere e se possiamo svolgerlo assieme come rete delle professioni tecniche che noi siamo assolutamente disponibili a continuare a dare il nostro contributo per cercare di ottimizzare questo nuovo disegno di legge. Che dunque ha dei margini di migliorabilità? Cioè non è il miglior codice di appalti possibile? Ovviamente per noi no ma sicuramente ci sono degli spunti proprio perché si apre un dialogo siamo dialoganti cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Lei le pare che, scusi l'ultima battuta che il dialogo ci sia insomma non è soltanto un dialogo raccontato ma un dialogo che realmente ha da ascoltare le professioni tecniche? Non faccio mai presunzioni a priori vedremo cosa succede evidentemente noi esistiamo noi ci siamo noi abbiamo dato la nostra disponibilità adesso certamente non ci tireremo indietro ma sicuramente anche la parte politica dovrà in qualche modo coinvolgerci ma soprattutto capire come interpretare le nostre preoccupazioni o le nostre proposte Grazie Prego